Signori, benvenuti o ben ritrovati qui sul mio canale YouTube per una nuova partita di Pro Galactic Survivor. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il supporto che state dando al canale, grazie mille a tutti, e se non l'avete ancora fatto, vi inviterei a lasciare un mi piace e ad abbonarvi al canale per avere maggiori contenuti. Oggi andremo nella difficoltà 4, con il Trivellatore. È la prima volta che provo la difficoltà 4, quindi può essere che le prendiamo di brutto, ma può essere anche che le diamo, chi lo sa. Un po' di velocità di movimento sarebbe utile. 15% di danni, prendiamolo. Va bene. Intanto in alto a sinistra abbiamo... Qua mi blocco, qua mi blocco, qua devo andare via perché mi blocco. Qua mi blocco. Via, 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 via. Ah, ho preso danni, ho preso ancora danni. Oh mio Dio, qua mi sto bloccando, signori. Oh mio Dio, mi sto bloccando. Dobbiamo andarcene via in qualche modo. Il cristale ricarica, via, 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 via. Possiamo passare da questa? Dai, proviamo a passare da questa. Ah, via, 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 via. È stato molto, molto... Oh mio Dio, ma arriva già l'affettatore lite? Ma come sta già arrivando l'affettatore lite? Sta già arrivando l'affettatore lite? Not good. Not good. Non siamo ancora riusciti a prendere i funghetti. Faccio un po' di vite, la prendiamo. Bene. Bene. Abbiamo preso poco nitra. Mi ha colpito di nuovo qualcosa, non so cosa. Andiamo a prendere la capsula. È di nuovo colpito qualcosa e non so cosa mi abbia colpito. Aumento di livello. Prendiamo un potenziamento per i droni. Ora accogliamo tutti i punticini. Il 15% di durata. 35% di durata. Oh, 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 oh. Ehm... Prendiamoci un potenziamento per il nostro... Oh, sta diventando più forte. Non so se riusciremo a prendere la capsula, sinceramente. Sinceramente no, non penso, non penso, non penso, non penso, non penso, non penso, però, 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 però... No! 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 Bene, vita. Molto bene, molto bene, signore. Molto bene, molto bene. Proviamo ad aggirarli un po', questi qua. A prenderci un paio di punti. Ci riusciamo? A fare il giro, giro, tondo, casca, casca al mondo. Oh, mio Dio. Riusciamo a fare il giro, giro, tondo, casca, casca al mondo. Eh, questi sono punti regalati, signori, sono punti regalati. Va bene. Andiamo a prenderci... Forse già un altro upgrade. Eh, questi sono punti regalati, signori. Di due, perfetto. Eh, più 100% di danni, come faccio a dirti no? Ho meno di urata, 35% meno di urata, è parecchio. Però, si pareggia con i danni, quindi ne vale assolutamente la pena. Oh, 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 qua mi incastro, qua mi incastro. Oh, qua dobbiamo andarcene via, eh, prima che sconfiggiamo il pretoriano e non abbiamo preso la capsula. Quindi quasi quasi, eccolo qua. Andrei a prendermi adesso, andrei verso la capsula. A prendermi la capsula. E... danni, prendiamo danni, anche se velocità in movimento. Era molto invitante. Oh, 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 a noi serve sta capsula. A noi serve sta capsula. Ah, dai, 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 dai. Ehm... Di movimento... E andassene, via, 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 che abbiamo solamente 42. No! Ma no! Non li ho visti! Ma non li ho visti! Ma no! L'ho messi benissimo. Ho avuto fare un altro giro. Dovamo prendere la capsula. Let's go! Stage 3. Bene. Adesso abbiamo anche un drone. Scaviamo molto più veloci. Velocità di movimento dovrei andare a prendermi. Quella è importante. Attenzione. Non prendiamo danni stupidi da uno... Da un alieno che non sapeva cosa fare. Mi seguono le torrette. Però è una bella cosa. È una bella cosa che mi possono seguire. Aumento di livello. Ehm... 15% di danni. Va bene. Stai arrivando un altro sciame. Qua vuole uno scavare attraverso. Qua c'è uno che scoppia. Vediamo se magari riuscite a scoppiare per piacere. Grazie. Grazie. La capsula è in alto a sinistra ho visto. Prendiamo un po' di vita. Prendiamo un po' di nitra e anche un po' di vita. Molto bene, molto bene. Qua esplodono parecchio. Qua esplodono molto good. Andiamoci a tutti i punti. 10% di danni o 15%... 15% di velocità. In modo tale da... Da riuscire a portare... La nostra arma principale al dodicesimo livello. Qua dobbiamo... Vieni, gli esplodono parecchi. Una calamita sarebbe bello ogni tanto. È che sono così rare. Ho un altro fiorellino. Oh, oh, oh. Stavo per andare in faccia. Stavo per andare in faccia. Vediamo se riusciamo a farmare un po' di... Un po' di danni. Oh. Un po' di... Giustà di ricarica. La prenderei. Ah, questo fa male Eh sì, questo fa male No, ma no Perder così, perché sono andati in mezzo ai nemici Nuovo classe sbloccata, braccio forte Oh mio Dio Qua mi sto bloccando Oh, qua mi blocco, qua mi blocco, qua mi blocco Via, 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 via Sono tantissimi, sono veramente tanti Sono veramente tanti Sennò però anche qualche esplosivo di mezzo Quindi potremmo forse anche È arrivata la capsula Dove è sponata? Vorrei vedere dove è sponata la capsula Dove è sponata sta capsula Eh, danni Bene Ah, questo mi ha preso in pieno Oh, bene Bene La calamita Game change a calamita Giusto, giriamo 10% di durata Assolutamente 10% di velocità Perfetto E ne troviamo 60 Oh, ho fatto male Abbiamo fatto tanti punti Però ho fatto veramente male Via, 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 via Signori, signori, signori No, no, no Non voglio perdere Non voglio perdere Andiamocene via Andiamocene via 15% di danni Lo prendiamo assolutamente Ci blocchiamo da questa Oh, quasi È arrivato anche il Matera adesso Noi abbiamo ancora fatto la capsula Just saying Abbiamo ancora fatto la capsula Non so dove sia Non ho ancora guardato sulla mappa Da quanto sono concentrato Di non prendere danni Oh Bene Bisogna un po' di vita Via Di sotto è la capsula Forse riusciamo ancora a prenderla Sarà dura Ah Perché mi ha fatto così male Ma perché Eh, non riusciamo a prenderla La capsula Non riusciamo a prenderla Perché abbiamo troppo poca vita Non possiamo rischiare troppo Se riesco A ricaricarmi un po' la vita Forse 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 Eh, mi sa che non riesco a prenderla Eh, diventano più forti Mi sa che non ce la facciamo signori Mi sa che non ce la facciamo di nuovo Sono un paio di punti Muori, 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 muori Viene un paio di punti Accento di dorata Un po' di armatura Chi lo sa Dovessimo sopravvivere A sto stage Cosa che non penso Danni Ah Eh, mi ha fatto danni da tutte le parti Mi hanno fatto danni da tutte le parti 21 ancora 21 danni Quindi basta che mi Oh mio dio Basta che mi colpiscono una volta E sono Bello che è andato E adesso mi sa che sono bello che è andato E adesso mi sa che sono bello che è andato Ah 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 Proviamo a scappare un pochettino Scappare un pochettino Oh 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 Unica mia possibilità è che E che niente E che siamo morti E che siamo morti Sì Siamo morti oh